Conflitto di interessi, argomento di scontro, sale, il livello della polemica tra i candidati e Iorio invita Frattura a chiarire alcuni aspetti privati. Proseguono intanto le iniziative elettorali dei candidati e i confronti tra i presidenti. Benedetto XVI lascia i commenti dei fedeli, stupore e incredulità anche a Campobasso e Isernia per la decisione annunciata dal Pontefice. Un gesto che restituisce luce al Papa molisano Celestino V, dicono in molti. La politica è in lutto, saluta Florindo Daimmo, cordoglio unanime per la scomparsa di uno dei padri della regione. Aveva 85 anni e si è spento a Termoli nel giorno dei funerali della moglie. Le esequie domani alle 11. Due slavine si staccano da Campitello, nessuna conseguenza per le persone, per il fenomeno che si è verificato in piena notte. La località è isolata per alcune ore, poi liberata la strada. Capone conferma, voglio lasciare. Il presidente è deciso a vendere la società precisa, non c'è il debito che si dice. Intanto il Campobasso oggi ha ripreso gli allenamenti. Buon pomeriggio a tutti voi dalla redazione di Telemolise. In apertura la politica con il botta e risposta al vetriolo tra il comitato elettorale di Michele Iorio e il candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra Paolo Frattura. Ci dice tutto Giovanni Minicozzi. Vediamo. Dopo gli attacchi sferrati da Massimo Romano contro i presunti conflitti di interesse di Paolo Frattura, l'architetto è finito nel mirino del comitato elettorale di Michele Iorio. Il candidato Paolo Frattura, hanno scritto in una nota, fa della trasparenza uno dei punti cardi nel suo programma elettorale. Ma perché allora non spiega tutti i suoi possibili conflitti di interesse? Perché non dice ai molisani quali pericoli possa correre l'interesse pubblico alla luce dei suoi trascorsi professionali e imprenditoriali? Noi chiediamo a Paolo Frattura di far sapere ai molisani se è vero che sia stato lui il progettista del tanto discusso Masterplan di Campobasso che prevede un massiccio intervento urbanistico sul capoluogo regionale e se è vero che lui stesso è proprietario o ha interessi diretti in due normi stabili in cemento armato ancora in costruzione tra la zona Vazieri e l'Università di Campobasso. Se tutto ciò fosse vero, conclude la nota, Frattura sarebbe la persona più adatta a rappresentare e tutelare l'interesse pubblico dei molisani e in particolare dei campobassani oppure i legittimi interessi da costruttore e non da politico potrebbero mettere a rischio il bene comune? Restiamo in attesa di risposte e la risposta non si è fatta attendere. Mi meraviglio, caro Presidente, a saperti adesso anche censore. Non da te che dovresti conoscere bene quel grande insegnamento che invita ad andarci piano con le accuse dal sapore qualunquista. Chi è senza peccato, ha aggiunto Frattura, scagli la prima pietra, ricordi e allora sbaglio o il conflitto di interessi è favorire, approfittando del proprio loro pubblico, familiari, parenti, amici, non credo che su questo fronte tu sia senza macchia. Se ne hai bisogno potrei ricordarti anche qualche episodio preciso in tal senso. Frattura ha poi ricordato a Iorio di essere stato alla guida del governo di questa regione per ben 12 anni. Dunque, chi meglio di te sa, chi meglio di te potrebbe circostanziare con precisione i presunti conflitti di interessi di cui oggi all'improvviso inizi a favoleggiare anche tu. La nota di Frattura si conclude con un invito preciso. Facciamo uno sforzo, manteniamo alto il livello di questa campagna elettorale e finiamola qui. Questi attacchi, ha concluso Frattura, lasciali a Sabentino di turno, ma è facile prevedere che lo scontro non finisce qui. Torniamo ora sulle dimissioni di Papa Ratzinger. Siamo andati in giro a Campobasso a chiedere il parere della gente. Inevitabile il confronto con Papa Giovanni Paolo II. Sentiamo Tonino Danese. Dalle ore 20 di giovedì 28 febbraio, Josef Ratzinger non sarà più Papa. Dopo quasi otto anni di pontificato, ieri l'annuncio delle sue dimissioni, che ha spiazzato e per certi versi sconvolto il mondo, non solo dei cattolici. A quasi 86 anni, Benedetto XVI ha deciso di lasciare e lo ha comunicato ai cardinali durante il concistoro in latino. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, ha detto che sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero Petrino. Vedere Papa Giovanni II, Paolo II, in quello stato, nel finale, è stata una cosa brutta. Quindi lei ha condiviso questa scelta? Io dico di sì, perché non se la sentiva pure psicofisicamente. Ma io penso che il Papa doveva stare fino alla fine, per il mio conto, dopo, se proprio è a livello di saluto. Beh, è stato un grande gesto quello di Papa Ratzinger, un atto veramente di coraggio e sono sicura che ha dato una grande lezione di umiltà a tutti. Io credo che ha fatto una cosa buona. Per quale motivo? Se non ce la fa, ha fatto bene. Secondo me è un uomo che ragiona e vuole bene l'umanità, perché per dimettere, perché a livello fisico non ce ne fa più, fa bene. Vuol dire che è un Papa che ci ama, ci stima e ci vuole bene. Anche tra i molisani c'è chi ha condiviso la scelta di Benedetto XVI e chi ha manifestato qualche perplessità, facendo il paragone con Giovanni Paolo II. Come Giovanni Paolo II è stato papà finché non è morto, anche durante la sua malattia. non toglie che lui non si è dimesso, quindi alla fine dire che non ce la fa, è stata una sua scelta e io non la vedo come una scelta positiva. Secondo me è un paragone non del tutto giusto, perché alla fine hanno due caratteristiche di porsi nei confronti dei fedeli totalmente diverse. Giovanni Paolo, possiamo dire, per quanto, per quello che penso io, era più che altro un Papa del popolo. Invece Ratzinger, diciamo, è sempre stato abituato comunque ad essere, diciamo, una persona molto legata agli schemi, formali, quindi molto attento al rispetto delle regole. Tra virgolette felice che si sia dimesso perché voglio, appunto, un altro Papa come lui, come Giovanni Paolo II, perché è stato un Papa che mi ha colpito. Speriamo che è italiano. Si vuole un Papa giovane. E in qualche modo le dimissioni di Papa Ratzinger riabilitano anche la scelta di Papa Celestino V. Siamo andati in giro ai Serni a chiedere ai cittadini cosa ne pensano. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Le dimissioni di Papa Benedetto XVI inevitabilmente hanno fatto pensare a quelle altrettanto clamorose di Papa Celestino V. Nel caso dell'eremita molisano si è sempre parlato di un gesto vile a causa di alcune interpretazioni soggettive della Divina Commedia, mentre i pareri sul pontefice tedesco sono stati pressoché unanimi. Il suo è stato un gesto di grande responsabilità. Usando lo stesso metro di giudizio significa che la figura di Pietro Angelerio è stata di fatto riabilitata dall'opinione pubblica mondiale. Ma ai Serni, alla sua probabile città di origine, questo passaggio non è stato necessario. Per tutti in città, Celestino V è il Santone, un soprannome che dice tutto sull'amore incondizionato che si nutre nei suoi confronti. Che Celestino V abbia fatto una rinuncia per viltà l'ha detto uno scrittore, un Dante Alighieri. E non è nemmeno sicuro che si riferisse a Celestino V. Per quanto mi riguarda, Celestino V fece una scelta di fede e di grande responsabilità, tanto quando di profonda fede e di straordinaria responsabilità e coraggio alla scelta di Papa Benedetto XVI, di fronte alla quale penso che la Chiesa non possa fermarsi a guardare, è uno scossone che prendiamo tutti, ci responsabilizza tutti e ci interroga tutti. Per la Chiesa dunque la questione di Celestino V non si pone, allo stesso modo la pensano gli Sernini. Secondo me Celestino V si mise per i Romani là, perché lui non ce la faceva tra i borghesi, tra i Torlonia e tutti gli altri, tutti i Bernini, e lui si dovette dimettere. Tra le famiglie borghese di Roma si scannavano tra di loro, chi doveva fare il Papa, capito? Le abilizzazioni di Celestino V è stata fatta anche nel 70 è vero che fu fatto santo. Ora, Celestino V si è trovato in un periodo storico diverso da quello attuale. Celestino V non se n'è andato per il suo gran difiuto, ma perché il Papa che gli ha succeduto, cioè che gli ha succeduto Bonifacio VIII, in pratica lo ha incarcerato, lo ha fatto uccidere. Una persona onesta, diciamo, e quindi era un'eremita, andava a pregare sulla montagna. Io penso che il nostro Celestino V è stato riabilitato. Lui pensa per l'umanità, per salvare l'umanità, e la Chiesa intera è il Papa che si è dimesso adesso. Quindi aveva fatto bene anche Celestino V. E certo, lui che si è sentita di fare così, è il Signore che ci aspira nei nostri cuori quello che dobbiamo fare. Però la cosa è che ci siamo rimasti molto male con il Papa Razzinca. Ci dispiace. Però è da tempo che mi sono accorta che lo vedevo un po' sofferente. Forse è questa la sua causa per cui ha lasciato. Cordoglio unanime per la scomparsa di Florindo Daimmo. I funerali dell'Onorevole ed ex Presidente della Regione si svolgeranno domani alle 11 nella Chiesa di Santimote a Termoli. In questo servizio il ricordo di Daimmo figura di spicco nel panorama politico regionale e nazionale. Con la scomparsa di Florindo Daimmo se ne va un pezzo di storia del Molise. Quel Molise che Daimmo ha contribuito a realizzare come fautore del primo piano di sviluppo regionale e con il contributo nell'insediamento delle prime grandi realtà produttive, come la Fiat di Termoli, senza contare poi l'apporto determinante nella progettazione dell'invaso di Guardia Alfiera. Daimmo è riuscito nell'intento di proiettare il Molise fuori dal suo isolamento politico ed economico, creando i presupposti per la nascita e lo sviluppo della ventesima regione italiana. È stato il primo Presidente del Consiglio regionale, incarico che ha ricoperto dal 25 luglio del 70 al 6 marzo del 74. Dal 75 all'82 ha guidato il Molise come Presidente della Regione. È stato parlamentare per quattro volte con la democrazia cristiana, a partire dall'83 e due volte sottosegretario nel primo governo di Giuliano Amato con il prestigioso incarico in tema di lavoro e previdenza sociale e nel governo di Carlo Azzeglio Ciampi con l'altrettanto delicata responsabilità in tema di bilancio e programmazione economica. Sempre un Parlamento è stato componente delle commissioni lavoro, finanze, tesoro e bilancio. Dopo la diaspora della DC, Daimmo è passato al Partito Popolare Italiano che ha guidato fino al 2000. Una carriera folgurante e senza macchie quella di Florindo Daimmo, un politico d'altri tempi a cui diversi parlamentari ed esponenti regionali hanno ammesso di ispirarsi ogni giorno. Cordoglio bipartisan per la sua morte. Da destra a sinistra sono arrivati attestati di stima e di solidarietà alla famiglia dell'Onorevole. Per il Presidente della Regione Michele Iorio, Florindo Daimmo è stato un vero galantuomo della politica, un attore protagonista delle istituzioni, un fiero servitore della sua regione e del suo popolo. Per il Presidente del PD e per il Segretario regionale del Partito Democratico, Roberto Ruta e Danilo Leva, la scomparsa di Daimmo rappresenta una grave perdita per l'intera politica molisana. Daimmo è stato artefice della costruzione di un modello integrato di sviluppo della nostra regione, hanno aggiunto. Il senatore del PDL Ulisse Di Giacomo ha parlato di Florindo Daimmo come di un uomo intelligente, disponibile, mite e rispettoso, che ha rappresentato le istituzioni con stile e trasparenza, con la mente sempre rivolta agli interessi della gente comune. Per l'europarlamentare Aldo Patriciello, invece, è stato la dimostrazione esemplare di come un uomo possa mettersi a disposizione dell'altro, perseguendo il bene della collettività. Per il Presidente del Consiglio regionale, Mario Pietracupa, poi, con Florindo Daimmo viene meno un padre nobile della nostra regione. Credo che il Molise, ma più in generale l'Italia, detto il Presidente dell'Unione delle Provincie molisiane, Salvatore Colla Giovanni, abbiano bisogno di politici di un certo spessore come Daimmo e mi auguro che le classi dirigenti sfornino persone capaci come lui. Ricorderò senz'altro la mole di lavoro prestata in favore della crescita, della programmazione, degli interventi per la nostra regione, ha inoltre sottolineato il Presidente della Provincia di Campobasso, Rosario De Matteis. Cordoglio anche dall'intera amministrazione di Termoli, il Sindaco Antonio Di Brino lo ha definito un alfiere della politica del fare, dalle grandi capacità e virtù morali. Florindo Daimmo si è spento ieri intorno alle 19, all'età di 85 anni, nel giorno dei funerali della moglie, Gilda Di Michele. Anche le sue esequie si svolgeranno nella chiesa di Santimoteo a Termoli. La cerimonia religiosa è prevista domani alle 11. Accanto ai figli Antonio, Antonella e Sandra ci saranno le massime autorità della regione e non solo, ma forse l'abbraccio più grande. Quello che Daimmo avrebbe voluto, oltre naturalmente all'affetto dei suoi familiari, è proprio quello della gente comune, quelle persone che Daimmo ha sempre messo al primo punto del suo impegno politico e istituzionale. E ora torniamo alla campagna elettorale, un piano straordinario di sviluppo per favorire l'occupazione e sostenere il sociale. L'annuncio di Michele Iorio a Termoli che ha incontrato i cittadini insieme ai candidati dell'istino di centrodestra. Ce ne parla Fabrizio Chionero. La campagna elettorale sta dando i suoi frutti e il riscontro motiva la presenza sul territorio per illustrare il programma ai cittadini attraverso l'ascolto dei problemi e la ferma volontà di continuare i progetti avviati. Si è detto molto fiducioso Michele Iorio in occasione dell'apertura della sede elettorale in piazza Monumento a Termoli, dove il presidente di candidato ha incontrato i sostenitori insieme agli esponenti dell'istino di centrodestra. Un momento per annunciare anche un piano straordinario di sviluppo che verrà presentato nei prossimi giorni. Si tratta di operare una politica di bilancio che ci consenta di sostenere due settori primari della nostra regione. L'occupazione, quindi una spinta forte per l'occupazione giovanile per chi ha perso il posto di lavoro e non riesce a rientrare. E dall'altra parte le politiche sociali che dobbiamo risolvere perché lo Stato centrale ci ha messo in enorme difficoltà con i tagli operati. Nelle liste, ha aggiunto Iorio, il rinnovamento si aggiunge all'esperienza e alla disponibilità anche di chi ha scelto di candidarsi nel listino maggioritario di centrodestra senza il paracadute del proporzionale. Da Termoli il presidente di candidato ha parlato anche di infrastrutture, di fondi disponibili e dei risultati ottenuti dall'Euroregione Adriatica e le strategie avviate per ampliare gli scambi. Termoli deve completare la sua centralità rispetto all'intermodalità dei trasporti. L'autostrada sarà una via per il futuro di questa città e dell'intero Molise. L'impegno è quello di completare le strutture portuali di tipo commerciale, produttivo e turistiche. Dopo 30 anni di esperienze, ha osservato Iorio, nessuno ci può ricattare e impedire di portare avanti l'impegno politico. Poi non è mancata una frecciata alla coalizione di centrosinistra. C'è un accrocchio, c'è un ingorgo, c'è un intruglio che al centrosinistra ha sostituito un'intesa tra due poteri forti che sicuramente non lasciano besperare per una politica rivolta al bene comune e non agli interessi propri. Confermato da Emilio Izzo, che avrà il ruolo di garante e moderatore, l'incontro di venerdì mattina tra i candidati alla presidenza della Regione e Antonio Bianchi, patron dell'ITR. L'incontro, organizzato dallo stesso Izzo, si terrà nella sede dell'azienda Tessile alla presenza di sindacati, giornalisti e una vasta rappresentanza di dipendenti dell'azienda. Il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, Paolo Frattura, ha presentato la lista Unione per il Molise, guidata dal sindaco di San Martino in Pensilis, Vittorino Facciolla, e ne ha parlato ai nostri microfoni. Quali sono i punti di forza di questa lista? E' una lista fatta con l'entusiasmo soprattutto di amministratori. Amministratori che, grazie alle eccellenze dimostrate nella gestione quotidiana dei propri territori, dei propri comuni, hanno dimostrato qualità nella proposta. Un'altra lista civica che condivide lo straordinario progetto del centrosinistra. Un progetto, ripeto ancora una volta, condiviso, costruito giorno dopo giorno, un cantiere aperto che caratterizzerà i prossimi cinque anni della guida del centrosinistra della Regione Molise. Come è nata l'idea di costruire questa lista sulla candidatura di amministratori? Ma è nata perché penso che il rapporto forte tra governo regionale e territorio vada garantito dalla presenza non di candidati che rimangono impegnati nel mese di campagna elettorale, ma di persone che mettono in gioco la propria credibilità, la propria affidabilità per un progetto comune e condiviso. Andiamo avanti sempre con la politica, con le parole di Frattura. Il dispiacere è forte, ma rispettiamo la sentenza di esclusione. Mi assumo la responsabilità dell'errore, ma l'entusiasmo ci fa dire andiamo avanti. Proprio Paolo Di Laura Frattura, infatti, si riferisce, come sancito dal Consiglio di Stato, all'esclusione degli otto candidati della lista Noi per il Molise. Ma allo stesso tempo Paolo Frattura non ha gioito della contemporanea esclusione del PDL in provincia di Isernia. Più liste ci sono e maggiori sono le possibilità per i cittadini di esprimersi. I nostri candidati, ha poi aggiunto, non sono dei portatori d'acqua, ma un elemento di garanzia. La nostra campagna non terminerà con le elezioni, ma andrà avanti per i prossimi cinque anni al Governo della Regione. Auspico in futuro, ha poi concluso Frattura, una semplificazione delle regole che chiaramente non è possibile attuare in corso d'opera. Il candidato presidente Massimo Romano è stato a Termoli, al porto, dove è tornato ad attaccare l'avversario Michele Iorio sulla questione del Termoli Jet. Con alle spalle il catamarano che ha collegato il Molise alla Croazia, il leader di Costruire Democrazia, ha garantito che i soldi dei cittadini non verranno più spesi in questo modo. La Procura Nazionale della Corte dei Conti ha citato il Termoli Jet nei casi di dispendio di risorse pubbliche, ha affermato, aggiungendo che la coalizione che lo sostiene è invece impegnata per mettere al centro di una politica di sviluppo il territorio del Basso Molise. Siamo convinti, ha concluso Romano, che bisogna aprire davvero i confini regionali all'altra sponda dell'Adriatico. Ulisse Di Giacomo, candidato a Senato per la lista del PDL, ha incontrato a Isernia i rappresentanti delle associazioni sportive che operano sul territorio. Sentiamo Enzo Di Gaetano. È candidato al Senato per il PDL ed è in corsa per il ritorno a Palazzo Madama, ma Ulisse Di Giacomo non dimentica la sua storia personale, le tante panchine in serie D, come medico dell'indimenticabile Esernia Calcio e soprattutto il fatto che da anni riveste l'incarico di presidente provinciale del CONI di Esernia. Per questo e per ascoltare le istanze del mondo dello sport, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni sportive. Sì, io credo che sia anche interesse del mondo dello sport votare per chi rappresenta lo sport in provincia. Avere in Parlamento un gruppo folto di deputati e di senatori che rappresentano il territorio, il mondo sportivo e che sostengano le iniziative a favore dello sport, credo sia un interesse che parta dalla presidenza nazionale del CONI fino all'ultima e la più piccola federazione nel territorio. Intanto però ci sono anche le grane, come quella della sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso per l'esclusione della lista del PDL. Ci possono essere delle brutte sorprese dopo questa esclusione di Giacomo a livello sia di regionali che di politiche? E' una sentenza che io continuo a non comprendere perché si trattava di vizi formali, non sostanziali e di questo passo già la gente difficilmente va a votare. Se poi impediamo anche alla gente di avere i propri rappresentanti da votare credo che la democrazia perda molto del suo significato. Non credo che questo fatto inciderà sul risultato finale perché i nostri quattro candidati stanno continuando a muoversi sul territorio facendo votare il candidato alla presidenza Michele Iorio e i candidati alla Camera e al Senato del Popolo della Libertà. Non credo che ci siano delle grandi difficoltà dal momento che a livello nazionale Berlusconi è in una rimonta fenomenale e noi riteniamo che possa addirittura vincere, io ne sono sicuro che vincerà queste elezioni e con lui vinceremo anche noi in Molise sia alla Camera che al Senato e vinceremo con lui anche con la presidenza di Michele Iorio. Le ultime notizie dicono che Berlusconi non verrà in Molise. Io stamattina ho parlato con la segreteria del Presidente Berlusconi, lui ha difficoltà a muoversi anche nelle altre regioni, sta rivedendo il suo calendario perché sta dedicando il tempo alla sua presenza nelle televisioni. Per noi va bene lo stesso, sappiamo che il Molise nel suo cuore ci sarà vicino e credo che in una delle manifestazioni che faremo qui nell'ultima settimana avremo almeno la possibilità di ascoltarlo con una diretta telefonica e di farci sostenere dalla sua autorevolissima persona in questa campagna elettorale che si sta dimostrando giorno dopo giorno vincente. Il Molise ha bisogno di un cambiamento e noi siamo l'unico vero cambiamento a livello nazionale. Lo ha affermato Pilar Saavedra, candidata alla Camera dei Deputati, con fare per fermare il declino. Per Michele Boldrin, cofondatore del partito di Oscar Giannino, la priorità invece è invertire la rotta in regione. Ho deciso di candidarmi perché essendo aderente del movimento di Oscar Giannino credo che sia necessario radicarsi in questa regione che ha bisogno di un cambiamento e quindi fare per fermare il declino a mio avviso è l'unico vero cambiamento sul panorama nazionale e qui in Molise assieme a Massimo Romano. La prima cosa da fare è abbassare le tasse ma in un modo vero e diverso, non con le promesse che tutti gli altri politici hanno fatto e non mantenuto finora. Per Michele Boldrin, uno dei fondatori di fare per fermare il declino, la priorità invece è mandare a casa il governatore oscente Michele Iorio, definito un Berlusconi in miniatura. In entrambi i casi non fecero altro che mentire, cioè promettere agli italiani miracoli, riduzioni di tasse, posti di lavoro, a voi molisani la ricchezza, il progresso, le aziende che funzionano e riuscendo solo ad arricchire se stessi e a fallire completamente in tutto ciò che si sono proposti. Quindi come esempi mi sembrano perfetti, c'è un'analogia perfetta nella stessa maniera che bisogna mandare a casa Berlusconi per sempre e spiegare al senatore Monti che è bene che rimanga senatore a vita, visto che ormai gliel'è andata ma che lascia stare a governare, ci pensiamo noi che lavoriamo. Lo stesso credo che i molisani devono fare con Iorio che dopo tre impropri e fallimentari termini alla guida della regione dovrebbe proprio andarsene a casa. L'assessore dell'Udeur alla provincia di Campobasso e consigliere comunale della città capoluogo di regione Alberto Tramontano ha preso ufficialmente le distanze dalla scelta fatta dal suo partito di sostenere il candidato presidente del centrosinistra Paolo Frattura. Nel rispetto degli elettori e degli alleati, ha dichiarato Tramontano, non si può cambiare schieramento per meri calcoli politici o per opportunismo. Mi riconosco invece nella maggioranza di centrodestra e mi impegno coerentemente a sostenere la coalizione guidata da Michele Iori, ha poi concluso Tramontano. E ora torniamo sulla decisione del Consiglio di Stato che in via definitiva ha escluso la lista del PDL per la circoscrizione di Sernia e gli otto candidati della lista Noi per i Molise per la circoscrizione di Campobasso. Sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Dopo l'esclusione definitiva della lista del PDL in provincia di Sernia, il centrodestra di Michele Iorio prova a rinsaldare i ranghi per sopperire alla mancanza di quattro candidati importanti dalla competizione elettorale. La parola d'ordine che circola nell'enturace del Governatore è quella di tirare dritti nonostante tutto. D'altra parte, gli stessi esclusi della lista hanno riconfermato il loro impegno a continuare la campagna elettorale impegnandosi più di prima per portare acqua al mulino di Michele Iorio. Sui fronti opposti invece, soprattutto sul versante di Paolo Frattura, la sentenza del Consiglio di Stato è stata accolta con un sospiro di sollievo, anche se restano fuori dalla gara otto dei dodici candidati della lista, noi per il Molise, della circoscrizione di Campobasso collegata allo stesso Frattura. Sulla vicenda è intervenuto il Presidente Michele Iorio che ha dichiarato «Ovviamente avrei preferito che la lista del PDL di Sernia corresse insieme agli altri nostri candidati, ma la conferma della sua esclusione non cambia di una virgola la determinazione, l'ottimismo e la forza che stiamo approfondendo come singoli e come coalizione per raggiungere un obiettivo che è oggettivamente alla nostra portata». Più duro l'intervento del Senatore Ulisse Di Giacomo che ha definito l'esclusione un atto di ostilità contro il PDL. Chi voleva votare per i candidati del nostro partito in provincia di Sernia è stato privato di un diritto costituzionale, ha detto Di Giacomo. Siamo alla preistoria, ha aggiunto al diniego democratico, alla negazione dei diritti, ma chi pensa che questa esclusione, ha concluso Di Giacomo, possa minimamente ridurre la nostra possibilità di vittoria, si sbaglia di grosso. «Intanto c'è già chi, in relazione al risultato elettorale, si accinge a presentare nuovi ricorsi all'indomane del voto e dunque c'è il disco che tarde il Consiglio di Stato per la terza volta possano annullare le elezioni regionali». E lasciamo la politica, torniamo a Termoli per parlare della vertenza Carrefour, sentiamo quali sono le ultime novità da Manuela Iorio. «L'incontro con la società interessata a rilevare il Carrefour è saltato, ma solo per impedimenti personali del delegato che era stato invitato a Termoli per visitare la struttura del centro commerciale. Dunque i lavoratori dell'ipermercato del San Nicola continuano a sperare, così come quelli delle altre attività rimaste ancora aperte all'interno della galleria, la cui sopravvivenza è legata proprio alla presenza della piattaforma alimentare. Il tavolo tecnico, la presenza di sindacati e istituzioni, si è comunque tenuto in comune proprio per ribadire l'attenzione al problema. Attenzione che si è spostata anche sulle strategie per rilanciare l'intero centro, come la modifica la viabilità con la realizzazione di una rotatoria per facilitare l'accesso alla struttura. Intanto è stato confermato che il gruppo contattato è interessato ed è italiano. All'incontro hanno partecipato anche il governatore uscente Michele Iorio, che è la delega al lavoro e l'assessore alle attività produttive, Michele Scasserra, che ha ricordato come per la società che subentrerà al Carrefour siano previste agevolazioni contributive. Ma alla riunione si è parlato anche di ammortizzatori sociali. Iorio ha assicurato che i fondi ci sono e il dirigente regionale Rossi ha spiegato che per i dipendenti diretti è prevista la cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività. Per gli interinali e per i lavoratori dell'indotto, una trentina, compresi vigilanza e personale delle pulizie, l'obiettivo è la cassa integrazione in deroga per cui bisogna valutare la disponibilità del ministero. Anche la proprietà del San Nicola, che ha partecipato al tavolo, ha annunciato la propria disponibilità a rivedere il canone di affitto. Ora, prima della fine della settimana, è previsto l'arrivo degli eventuali compratori. E ora andiamo a Campitello Matese, dove nella notte è scattato l'allarme Slavine. Vediamo. Due Slavine nella notte sono bastate a bloccare la provinciale 106 per Campitello Matese. L'allarme è scattato alle 3 dopo che migliaia di metri cubi di neve si sono riversati sull'asfalto tagliando in due la strada di collegamento con la località scistica molisana. La provincia di Campobasso ha avvisato subito la prefettura, protezione civile e carabinieri e ha attivato i mezzi di emergenza. Gli uomini dell'ente della polizia provinciale hanno raggiunto subito il posto. Turbine e scavatori sono entrati in azione prestissimo per liberare l'unica via di accesso a Campitello Matese. La strada è stata chiusa poco dopo lo svincolo di San Massimo. Molti turisti hanno dovuto fare marcia indietro. A causare le Slavine le temperature salite nelle ultime ore di qualche grado e la pioggia dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. I tecnici della provincia e il corpo forestale stanno monitorando la situazione ma il rischio Slavine lungo la provinciale 106 non è ancora scongiurato. L'accesso alla località turistica è stato garantito fino a metà mattinata solo ai residenti e ai lavoratori della zona, mentre la strada è stata riaperta più tardi anche ai turisti. Il presidente della provincia, Rosario De Matteis, ha seguito costantemente le operazioni e ha ringraziato tutto il personale per l'ottimo lavoro. Si chiama Pronto Farmaco il nuovo servizio che sarà offerto a titolo di sperimentazione gratuito per i cittadini del comune di Campobasso fino al 15 febbraio. L'iniziativa è rivolta soprattutto a soggetti come anziani portatori di handicap e con difficoltà motorie e consiste nel ritiro di impegnative presso gli studi medici e consegna dei farmaci a domicilio. Il servizio nasce dalla collaborazione tra Croce Azzurra Molisana e Centro Servizi La Longevità. Il numero di telefono per informazioni è 0874 69 80 00. Lo ripeto 0874 69 80 00. E ora parliamo del carnevale. Tra le manifestazioni più suggestive c'è sicuramente quella dell'uomo cervo a Castelnuovo a Volturno. Vediamo. Nella piazza di Castelnuovo al Volturno si è rinnovata la tradizione dell'uomo cervo. Tra le pantomime più antiche della nostra regione l'uomo cervo e la sua compagna seminano il terrore nel borgo. Lo vogliono distruggere con esso i suoi abitanti. Martino e l'anziana Massaia provano a fermarli ma sarà il cacciatore con due colpi di fucile a ucciderli. Il suo scopo non è cancellarli dalla faccia della terra bensì riportarli in vita reinserirli nella natura di cui sono parte come ognuno di noi togliendo loro la malvagità e lo fa soffiando nelle loro orecchie. Il rituale che noi ripetiamo ogni anno per noi è sacro. I nostri avi lo facevano perché come tradizione diceva il buon raccolto era fonte di ricchezza. Noi non siamo più partecipi come prima perché non tutti lavorano alla terra ahimè però rispettiamo quella che è la nostra tradizione. Un rito quello dell'uomo cervo antichissimo pre cristiano. È un culto i riti di passaggio cioè il passaggio tra l'inverno e la primavera. La pantomima del cervo rappresenta la morte dell'inverno che è appunto personificata dal cervo che venendo ucciso versa il suo sangue perché la natura con l'avvento della primavera ormai prossima anche se stasera non si direbbe con l'avvento della primavera appunto permette alla natura di rigenerarsi. Lungo le vie del paese in un gemellaggio dal sapore internazionale anche le maschere antropomorfe della Slovenia quella lucana di Tricarico e mammutones sardi di San Mugheo e il diavolo di Tufara. Quello che ci fa andare avanti a noi come piccola associazione è la voglia è la voglia di fare diciamo che la gente ogni anno che viene qui e grazie a loro se ogni anno continuiamo a fare sempre il meglio. Beh sicuramente continuerò a fare la cerva lo spero e andremo anche fuori già ci sono molte ci hanno chiamato dalla Sardegna per quest'estate e contiamo di andare in altri posti sia a livello europeo e anche internazionale speriamo. Bene per il nostro telegiornale delle 14 è tutto grazie per essere stati con noi ora meteo e poi sport. Buona giornata.